Di fuori, qui, ah no fammi chiudate, va chiudate, non è mai contenta Morena, però della mia vita di questi ultimi periodi, di questa puntata mi dovreste essere molto grati perché io sono uscito dall'ospedale l'altro ieri, mi sono venuti a prendere Fabio, come si chiama? Fabio Polo, stasera riceverete su Italia 1 il racconto, per quanto riguarda la trasmissione, io ancora devo mettere a fuoco bene gli argomenti perché sono un po' confuso, mi sembrano tutti prioritari, Cioè vi avrei voluto chiedere, secondo voi il nostro paese durante la nostra assenza dalla televisione è migliorato, qual è la situazione economica delle vostre famiglie, che ne pensate delle pensioni, perché ci sono veramente aree controverse E, discussioni, io poi ho fatto un viaggio in Sardegna, sono andata a trovare Berlusconi, ho le immagini, non so, se domani ve le farò vedere perché sono estremamente divertenti, anche perché ho scoperto che forse la mia vita potrei finirla in Sardegna, sì, sì, potrei finirla in Sardegna. Vai a vedere chi c'è, a vedere chi c'è, chi è venuto a trovarti, sì, Demitri Stefano Siciliani, sì, ecco, vieni, vieni, chi è, caro Enzo, come stai, o sai che ti ho dedicato un filmato mentre andavo a trovare Berlusconi da un gozzo, e dato che un avvocato mi ha detto che avevamo il diritto da proto perché non lo si nega nessuno e ho pensato al capitano Agab e ti ho detto, Demitri hai proprio ragione, insomma, assiediti a quella sedia, però c'ho anche un amico Stefano, ci sei? Eccolo qui, come stai? Chi c'è là dietro ancora? Vieni, scusa un attimo, che liquido lui, nel senso più buono della parola, stiamo organizzando una, sì, hai un po' la faccia da rincoglionetto, No, non so, la grande, ci ho da darti una notizia che ti farà piacere sicuramente, stavo da Giolitti, sei a Giolitti il bar vicino al Parlamento, ho incontrato una persona che sta molto vicino a Gianfranco Fini, ho parlato un po' con lui, prima di congerarci, mi ha preso e mi ha detto ringrazio a Gianfranco, mi ha detto le cose, mi ha avvicinato e mi ha detto gli ha aperto gli occhi, ho detto a te che cosa? Ah, perché gli ho detto, quando venca, sì, 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 non c'è cosa che Silvietto, non c'è foglia che Silvietto, Silvietto, non voglia, ha detto dopo quella frase, è uscito da lì, era nervoso, incazzato, è riuscito a aprire gli occhi. Allora vi ricordo quello che è successo, andai alla festa di Alleanza Nazionale e notai come Gianfranco Fini, Vice Presidente del Consiglio, io vengo da una famiglia fortemente antifascista, quindi sono insospettabile, ma Alleanza Nazionale è nata un po' a casa mia, quando io ero candidato al sindaco di Roma, ritirai la candidatura e si candidò Fini perché fu una strategia precisa e Fini corse il rischio di vincere quelle elezioni, guardate bene, corse il rischio di vincerle come Miss, è da lì che poteva nascere Alleanza Nazionale. Allora, dato che lui usava, sente, la parola collegiale, 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 dissi, ma ci abbiamo anche il filmato, il Signor Vice Presidente del Consiglio, lui disse, ma non ci davamo del tuo? E come no? Certo, ci davamo del tuo. Lei usa la parola collegiale, ma che vuol dire che nei primi due anni il governo non ha avuto conduzione collegiale, collegiale, cioè è stato condotto come penso io, lui ha detto, e come pensi? Penso che non sei mai voi fa voglia che Silvietto non voglia, e lui non mi disse è vero, ma di peggio mi disse, Gianfra, io la storia delle pensioni l'ho saputa dai giornali e non dentro il Consiglio, e io dissi urlando, ma quando te incazzi? Te ne hai saldito nella piaga, l'ho beccato con il suo morto in bocca. L'hai svegliato da questo torpore, perché lui sta dietro Berlusconi e così gli ha dato il là, diciamo. Molto bene, allora, vi ho presentato Stefano Siciliani che avrà un compito, tutti i giovedì, o tutti i lunedì, ma vediamo, o venerdì, non lo so, ci collegheremo con Roma e lui mi darà le notizie di Salotto, di Piazza Colonna, di Giolitti, del bar, su quello che dicono i politici e forse qualche politico verrà. Devo avvertire i politici che per venire in questa trasmissione bisogna pagare. Avete le sovvenzioni che ha lo Stato? I vostri giornali sono sovvenzionati, a noi non c'è sovvenzione a nessuno, per cui se volete uno spazio avrete un prezzo per uno spezzone, è un prezzo maggiorato col mio contraddittorio, perché chi supera il mio contraddittorio vuol dire che era un vero politico, se no andate alla Fininvest e in Rai. Grazie Stefano, un partito, perché domani ti devo venire. Chiaro Enzo, come stai amico mio? Hai passato una bella estate? Sì. È stato bene? Certamente. Tua moglie come sta? Benissimo. Hai visto un po' di revisione? Sì. Che hai visto? Beh, ieri ho visto la tua chiacchierata con il professor... Come siamo? Il professor Margonato. Margonato. Sì. E ho pensato che... Se quel genere di chiacchierate fossero fatte da tutti i medici, certamente ce ne sono molti medici che fanno quel genere di chiacchierate con i propri pazienti prima degli interventi, oppure con i familiari dei pazienti, forse questo sarebbe un altro paese. Se quel modo... Cioè, uno capirebbe che cosa sta per capitarli, che cosa... Perché il professor Margonato mi è sembrato proprio una persona disponibilissima. Sì. Ma non perché stesse parlando con Funari. No, no, no. Penso che con chiunque... Lo stesso discorso me l'ha fatto quando stavo a letto. Sì, sì. Con chiunque, anche una persona sconosciuta. Sì, sì. E quindi ci sarebbe una disponibilità... Vieni presente che San Raffaele mi ha conciliato con la classe ospedaliere italiana. Certo, certo. Nota bene che io non sono andato a pagamento, ma sono andato con la mutua. Sì. Nota bene che da vecchio puzzone quale sono, nonostante l'angoscia degli interventi, io ho visitato tutti i pazienti che c'erano. Certo, certo. E gli ho chiesto come venivano trattati. Erano tutti molto contenti compatibilmente con quello che dovevano affrontare, ma molto soddisfatti. Perché è veramente una bella porta aperta alla speranza. Sì, sì. Se tutti gli ospedali fossero così, penso che... Nota bene che io lì ho passato un guaio. Perché lì io sono andato a visitare la gamba per farmi un bypass alla gamba, sono uscito che gli occhi che mi hanno aperto il collo per lo scrupolo di un cardiologo che entrando mi ha detto, sì sì, guardiamo la gamba, però sta affronando il cuore ruzzi. Ma lei ha mai fatto la doppia alla carotide? Non lo so. Ma la fanno. Quello che ma faceva un certo dottor astore ha fatto nullo, subito in camera operatoria è tutto chiuso. Quindi io... Il padre eterno ha messo una mano su... Ma... Ma... Sul dottor Margonato. Su Margonato. Che gli ha fatto venire l'idea che per scrupolo doveva essere guardata anche la... La tua salute? La mia salute va benissimo perché io non frequento i medici, per cui io mi sento sempre bene. E se per esempio mi fa male il braccio dico, stai attento che ti taglio, no? E lui si mette a posto subito. Ho capito. Senti, lo sai che dovrai venire tutti i giorni a darmi una mano? Perché questa sarà una trasmissione. Non ti dispiace se ti ricevo in un posto così? No, assolutamente. Poi sono innamorato, io ho avuto la Diana, questa è la Due Cavalli. Per me è la più grande macchina della storia. Ho capito. Perché la Citroen è riuscita a fare una macchina essenziale. Tu potevi mettere l'isci sotto. Nel coso della Diana ci stanno due biciclette. Nella Volvo non ci stavano due biciclette. Ho capito. Ho capito. Ci metti il gommone sopra senza mettere portabagagli. È una cosa. Io mi comincio a spogliare perché vado con Morena a casa sua perché stasera ancora non dormo qui, non mi sono attrezzato quelle sopra. Mi vieni a trovare domani? Certamente. Grazie caro. Arrivederci. Eh? Androfono. Mandate per cortesia la sigla, anche se non lo sentite adesso. Mandate la sigla, sia del gentile, come taglio e me ne vado. Forza. A domani. La trasmissione promettente, e lo sapete già, è fatta solo per la gente che vuole verità. Funari forever, ovvero, ovvero, il barbone dello spirito, ovvero, consulenza spirituale di Luigi Nardi, ovvero, ovvero, trasmissione bocciata. Grazie. Grazie. Grazie.